Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere quello che è successo l'altra volta su Firenze perché mi è sfuggito da mostrarvi l'ambus del mio programma Monster Dog che uscì su Firenze il 25, cioè scusate quella del 21.3 per quella del 23 marzo e uscì questi numeri, allora che ho digitato la precedente ho già digitato la precedente che era 64, 62, 29, 14, 84 ho già digitato nel casello giallo il mio programma Monster Dog che potete trovare nel link sotto e uscì 74, 5, cioè da giocare era 74, 5, 8, 38, 5 e l'1 uscì su Firenze, una roba incredibile, la volta dopo 1, 4 e 38 cioè l'1, 38 ho preso e qui avevamo il 5, è uscito il 4 sfiorato il terno, peccato, davvero su 6 numeri, avrebbe fatto comodo e niente, ve lo volevo mostrare perché mi era sfuggito l'altra volta perché avendo tanti programmi è un po' dura poi guardare ogni istrazione, tutti i programmi e consultare se è uscito qualcosa o meno, quindi a volte mi sfuggono delle cose perché non riesco a far tutto quindi niente, ve lo volevo mostrare ci sentiamo al prossimo video e mi raccomando se volete cliccare sul like iscrivetevi, mi fa piacere e ci sentiamo al prossimo video per adesso è tutto, vi saluto e vi ringrazio ciao a tutti, grazie